Bentornati, concludiamo con questa lezione l'analisi delle informazioni messe a disposizione dal nodo di input render layer. Abbiamo visto da volta scorsa il concetto delle maschere mediante CryptoMath, andiamo a vedere adesso gli ultimi connettori che abbiamo a disposizione che sono noisy image, noisy shadow catcher, denoising normal, denoising albedo, denoising depth. Questo gruppo di connettori sono tutti collegati all'argomento della pulizia dell'immagine, della riduzione del rumore che viene applicata dopo la fase di rendering. La prima, noisy image, ci mostra l'immagine uscita dal nostro motore di rendering però senza alcuna applicazione appunto della riduzione del rumore, il denoise. Ce ne possiamo rendere conto facilmente nelle zone un po' più scure dell'immagine, vediamo tutti questi puntini che sono appunto il rumore e l'uscita noisy image ci consente di utilizzare un nodo chiamato appunto denoise per andare a personalizzare l'applicazione della riduzione del rumore. Cioè noi possiamo chiedere a Blender di applicare il denoise semplicemente come poi è già stato fatto in questo rendering, quindi se io vado a vedere l'immagine in uscita nuda e cruda così come viene fuori dal rendering mi trovo l'immagine già pulita. Però io posso voler gestire in maniera più puntuale il modo in cui viene applicato il denoise nella mia immagine, quindi posso utilizzare come punto di partenza l'immagine rumorosa alla quale ancora non è stato applicato il denoise per successive elaborazioni. In questo caso si utilizza il nodo denoise che magari vedremo più avanti, che utilizza come input appunto l'immagine che stiamo vedendo in questo momento e può avere anche il noisy shadow catcher. Abbiamo visto in una delle lezioni precedenti che cos'è lo shadow catcher, con lo stesso principio noi possiamo avere l'immagine generata dallo shadow catcher senza l'applicazione del denoise. In questo caso non abbiamo oggetti che ci catturano l'ombra per fare il nostro fotoinserimento e quindi non abbiamo un'immagine apprezzabile. Denoising normal, denoising albedo e denoising depth vengono utilizzati dal nodo denoise come input. Questo è un nodo che ci permette di applicare il denoise col compositing e riceve come informazione in ingresso appunto il valore image, che può essere la noisy image o la noisy shadow catcher, il valore normal o il denoising albedo. Denoising depth, come possiamo vedere dal pallino grigio, è un canale di informazioni di tipo numeriche. Infine per chiudere questo lungo elenco di informazioni messe a disposizione dal motore di rendering abbiamo i gruppi di luce. Andiamo a vedere insieme come funzionano andando a reilluminare la nostra scena ripartendo dall'inizio. Eliminiamo questo cubo che abbiamo aggiunto nelle lezioni precedenti. Impostiamo come camera camera 001, che è il punto di vista originale. Quindi andiamo a togliere la luce del background e andiamo all'interno dell'outliner a spegnere le luci. Qui abbiamo una luce di tipo point che per l'occasione andiamo a mettere dentro la collection delle luci. Ricordiamoci sempre di cercare di essere almeno un pochino ordinati. E andiamo a spegnere entrambe le luci. Quindi passiamo in vista rendered e vediamo cosa succede. La nostra scena non è completamente buia, è comunque illuminata dall'oggetto cubo. Andiamo a spegnere anche questo. Adesso sì, la nostra scena è completamente buia, non ci sono fonti di luce. Questo oggetto cubo lo inseriamo sempre nella collection delle luci perché è stato inserito appunto per illuminare la scena. Adesso è un po' come se fossimo in uno studio fotografico. Lavorando in uno studio, comunque in un ambiente in cui si può ottenere il completo controllo delle luci, come appunto in Blender, una scena di Blender, bisogna provare a costruire l'illuminazione sul soggetto una lampada alla volta, un punto di luce alla volta. E non sistemare le lampade a caso, cioè dobbiamo cercare di avere una nostra logica. Partiamo dalla prima luce che è questa light, è una luce che colpisce direttamente i nostri oggetti e arriva alla nostra telecamera. Questa luce potremmo metterla, ad esempio, nel gruppo di luci chiamato luce diretta, per esempio. Andiamo all'interno della sezione View Layer. Noi qui abbiamo già due gruppi di luce ma le andiamo a cancellare per ricominciare da capo. Quindi inseriamo il primo gruppo, lo chiameremo luce diretta. Poi abbiamo un'altra luce che è appunto quella del cubo, che non solo illumina la scena ma ci consente di avere un riflesso interessante da vedere sui nostri oggetti. Quindi è sempre una luce diretta e la metterei sempre in questo gruppo di luci. La terza fonte di luce, invece, è una luce che arriva da dietro e vediamo insieme che effetto fa spegnendo le altre due. Venendo da dietro questa luce ci illumina i bordi dei nostri oggetti, dandogli una definizione maggiore. Questa luce la potremmo inserire in un altro gruppo, non nel gruppo della luce diretta ma nella luce, ad esempio, di contrasto. Come facciamo però adesso a dire a Blender che questa luce deve far parte del gruppo luce di contrasto mentre le altre due luci devono far parte del gruppo luce diretta? Andiamo a vederlo insieme. Adesso in questo momento è selezionata la luce sul retro della nostra scena. Andiamo all'interno della sezione Object, quindi nella sezione Shading andiamo a indicare che non lo vogliamo più nel gruppo luce 2 che tra l'altro abbiamo cancellato quindi non esiste più, ma il nostro oggetto deve far parte della luce di contrasto. Andiamo adesso invece a selezionare il cubo, andiamo sempre all'interno del pannello Object, sempre nella sezione Shading, troviamo Light Group e anche qui, anziché indicare luce di contrasto lo mettiamo in luce diretta. Nell'ultima luce, quella principale diciamo, anche qui andiamo nella sotto sezione Shading, eliminiamo il richiamo al gruppo luci 1 che non esiste più e andiamo a indicare che questa luce fa parte della luce diretta. Bene, riaccendiamo tutte le luci, quindi abbiamo due gruppi di luce, luce diretta e luce di contrasto siamo pronti per lanciare il nostro rendering. Facciamoli insieme con F12 e passiamo nuovamente al compositing per andare a vedere come possiamo sfruttare questi due canali di informazione sulle luci. Abbiamo luce diretta e luce di contrasto, sono tutte e due immagini vere e proprie che però rappresentano la nostra scena illuminata esclusivamente con il rispettivo gruppo di luci. Quindi se ci fate caso, nell'uscita luce diretta non abbiamo questa luce nel bordo di contrasto, mentre se selezioniamo luce di contrasto abbiamo solo quest'ultima luce, perché le due fonti di luce che facevano parte del primo gruppo non sono presenti in questo render. Vediamo molto velocemente un esempio di utilizzo di questi gruppi di luce in cui li fondiamo insieme con un nodo mix color, shift a color mix, sarebbe questo nodo che poi prende il nome del tipo di fusione che andiamo a selezionare, in questo caso ho selezionato light tin. Vi invito a notare come questi metodi di fusione sono simili a quelli che possiamo trovare nei programmi di fotoritocco quando andiamo a fondere i livelli. Quindi cosa facciamo? Fondiamo insieme la luce diretta e la luce di contrasto e prima di arrivare al nodo che li mescola insieme possiamo andare a modificare le singole immagini. Ad esempio in questo caso sono andato a dare un tocco di colore caldo alla luce sul retro, quindi vediamo i riflessi sui bordi dei nostri vasi che non sono più bianchi ma sono di colore giallo, naturalmente possiamo fare tutti gli esperimenti che vogliamo, invece nell'altro gruppo di luci sono andato a inserire un nodo che regola l'esposizione, quindi posso andare a decidere di aumentare o diminuire l'esposizione che deriva dall'illuminazione principale. In poche parole posso andare ad aumentare o diminuire il peso che ha un determinato gruppo di luci rispetto agli altri. Vi faccio notare che però le immagini che escono da questi canali sono immagini a cui non è stato applicato il denoise. Vado a eliminare questi due nodi per ottenere praticamente la stessa immagine in uscita del rendering e vi faccio notare come la grana sia ben visibile, questo perché appunto le informazioni in uscita dai gruppi di luce non è trattata dal denoise. Naturalmente possiamo farlo noi successivamente col nodo denoise. Bene, per questa breve lezione è tutto, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto.